buongiorno come stiamo oggi il primo di febbraio c'è un bel sole rispetto a ieri poi una giornata stupenda ma perché non ti piace la nebbia sì non potrei stare volentieri chissà poi non lo so in un luogo dove non c'è mai l'inverno dove non si vedono le nebbie nuvole ieri eravamo a volte dalle nebbie nuvole me le ricordavo a rocca di papa le nebbie nuvole ai campi di annibale quando scavallavano le nuvole monte cavo quello la parte rivolta verso verso la capitale verso il mare scavallavano venivano su e si adagiavano nell'alto piano dei campi di annibale che altro non è che la bocca del vulcano la bocca principale del vulcano laziale grande vulcano laziale tutto un buco tutto tutto un tripudio di bocche qua e là guardate un po il lago che mi trovo qua vicino al lago di bolsena più grande lago europeo di origine vulcanica sono sempre nei pressi dei vulcani non lo so come mai chissà sì che ieri le nebbie nuvole ci hanno inzuppate come se fossimo state sotto ad un acquazzone con la mini minuti ci siamo concesse proprio una passeggiatina ina 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 o e ho dovuto asciugare la mia cagnolina ina 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 o poverina il golfino la mia sciarpa alberetto tutta mentre si asciuga no non sono uscita con con l'ombrello ma ci mancherebbe no vabbè ci siamo anche un po divertite con la minuscola non vedevo quasi le case beh dalla mattina alla sera così e oggi oggi è bellissimo e azzurro siamo in sala da pranzo vedete che ancora il sole bacia la facciata da questa parte poi gira gira poi c'è la casa il gruppetto di case di fronte perché anche quella davanti non è un'unica casa sono sono almeno tre corpi diversi di case mi piace questa cosa mi piacciono questi agglomerati di abitazioni sì che di cosa vi chiacchiero ma che è il primo di febbraio che non vedo l'ora di andare a comprare delle mutande nei negozi abbiamo specializzati in paese non vedo l'ora di andare a comprare un balocco e anche profumi mamma non compri no com'è mormora la piccina mentre pieno di pianto agli occhi per la tua piccolina non compri mai balocchi mamma tu compri soltanto profumi per te e manco quelli a puzzare avevo da puzzare meno male che c'ho una scorta di profumi a casa e anche di saponi invece non ho abbastanza crema idratante però un bel boccione di olio di mandorle biologiche e poi ah meno male che c'ho l'arnica ma l'arnica sarà un bene primario oppure no eh c'ho da bruciarmi c'ho da farmi del male c'ho niente ma è razionale tutto ciò hai fatto il morbillo davvero sei guarito bene beccati il punturillo hai fatto la scarlattina beccati la punturina hai fatto la rosolia prendi un fiore la punturina e poi vai via vi sembra normale a voi io infatti mi chiedevo all'inizio di tutta questa cosa qua ma i medici o i futuri tali su cosa hanno studiato su cosa stanno attualmente studiando no no è tutto normale cioè nel senso come prima i libri pubblicati adesso riportano le stesse cose ma tu non sai non sai ma io sto leggere so capire non è che vado lì e ho la pretesa di fare delle prese però se voglio capire ci arrivo ancora eh e quindi dico e quindi e poi come ho formulato questa meno male c'è stato un medico che ha iniziato a far vedere cosa tuttora viene pubblicato al senso di una cosa al senso di un altro sì vabbè ma basta però ho ma infatti io avevo il sospetto che ci fosse nata una sorta di abracadabra sim salabim perché alcune persone che conosco che sono anche intelligenti a determinate domande hanno avuto sempre tutti la stessa risposta stessa reazione e io dico ma è strana questa cosa qua è come se fosse stato proprio dato un copione e poi c'è un luminare riguardo a determinate tecniche che ha spiegato ah ecco perché uno poi se uno ragiona no se non si lascia scivolare le cose però va bene mi fermo qua per le persone che povere cicce vogliono stare in mia compagnia proprio perché non trovarsi però ci sono anche persone che hanno bisogno di non sentirsi isolate in questa reazione in questa azione in questa versione alle versioni di latino io mamma ne ho fatte pochissime però adesso mi piacerebbe studiare il latino mi piacerebbe tanto mi ero comprata anche una bella grammatica mi ricordo parte dei libri e poi sono tra quelli che sono andate smarrite adesso come ho un po di tempo avevo detto anni fa mi studio il latino mi cerco avevo trovato anche una persona in gamba che bello allora lo facciamo insieme che è la risposta a insomma a seguirmi in questa mia avventura lo studio del latino e poi avevo anche trovato una persona in grado di aiutarmi e seguirmi nello studio del violino prima di farmi male al polso destro tutte le scuse sono buone no no però mi piace mi affascina il violino mi affascina mi affascina quanto mi affascina l'arpa però l'arpa mi ha affascinato prima del violino e sono due strumenti che non ho mai toccato in vita mia invece ve l'ho detto che io con gli strumenti a dancia invece non ce la so proprio non so ricavare una nota proprio zero provato con un clarinetto mamma mia non sono capace non capisco non sono capace invece col flotto attraverso è stato niente istintivo non mi hanno dovuto spiegare proprio niente ho fatto tutto da sola ed è stato bellissimo è bello trovarsi da soli con uno strumento musicale che ti fa vibrare dentro la musica perché allora già strimpellavo la chitarra poi quando ho provato lo strumento a fiato è un altro rapporto che si ha con con la musica che te la senti proprio vibrare dentro allo sterno oltre allo sterno poi ho provato anche strimpellare il pianoforte però ad esempio con certi strumenti il mio cervello fa fatica cioè la usare le due mani in quel modo lì però un accenno di un waltzer di chopin lo sembro proprio una di quelle che sa ma sei brava te ma da che so tre note quelle faccio e basta non so fare altro ce l'ho avuta sottornata tanto tempo in pianoforte lo avevo a bottega era bello vedersi sedere le persone signora posso suonare ma magari fosse lì apposta c'erano tutti gli spartiti però tutta gente che non ha mai cercato tra gli spartiti nostri c'erano quei di camilla e poi quelli che avevo acquistato io nel tempo duetti per pianoforte flauto me li sognavo di notte i duetti con la mia bambina e ha smesso lei ho smesso io lei ha smesso prima di me peccato perché camilla era proprio carina al pianoforte ha queste manine esili avete visto queste ditine lunghe poi sapete che le snoda tutte no mamma mia era carina l'asino raglia bruca la palla mi faceva morire quando suonava era troppo carina era contenta di andare dalla sua prima maestra ha avuto una maestra bellissima di pianoforte la portava in questa mansardina con una vista meravigliosa sul vara sulla val di vara e era buona aveva la parrucca quando ha scoperto che aveva la parrucca rideva a casa non devi prendere in giro vuol stare in ordine con la signora era proprio carina la signora cicciottella carina piccina e dolce dolce intelligente vi spacchiega zero contenta che camilla andasse a trascorrere un po di tempo con lei perché con una mamma che lavora tutto il pomeriggio in qualche modo bisogna occuparli si figliolo con certo orale però ho sempre cercato delle figure che comunicassero bene che fossero belle che fossero positive luminose intelligenti attente sensibili capaci ecco e che amassero quello che facevano e quindi camilla oltre ad andare a scuola di danza con una insegnante che stimavo da tanto tempo e ogni tanto andava faceva una lezione settimanale di pianoforte ma con una formula passatempo lei non studiava il strumento a casa sulla musica poi strimpellava così sul legno per esercitare le dita perché persona intelligente ma non sapremo camilla siamo agli inizi cosa avrà intenzione di fare quindi se lei è portata un bel orecchio musicale alle dita in agili dalle belle mani è intelligente e quindi potrebbe appassionarsi e quindi aver bisogno di un certo tipo di strumento oppure ritenerlo semplicemente una passione e allora ci rivolgeremo a un altro tipo di strumento per adesso trascorre il tempo qua con me e stava un'oretta e mezzo con lei poi arrivava a bottega con la tata e poi andavamo a casa con l'autobus tutta un'avventura organizzarsi lavorando non stop in un salone e non avere neanche la patente ecco quando camilla faceva queste cose io non avevo ancora la patente comunque anche l'avessi avuta ero impegnata in salone fino alle 18 io ora ero continuati tutti i giorni tranne il sabato che allora quando finivo finivo alle 8 8 e mezza 9 e poi andava a lezione di inglese da quando era la scuola materna da una mia amica di madrelingua inglese di origini italiane lei la giovanna che risate con la giovanna uno spettacolo la giovanna è venuta anche a mio secondo matrimonio ma era veramente ganza la faceva divertire e quindi ecco che c'era l'obbligo dell'inglese guardate un po che belle cose che facevano allora c'era l'obbligo della della dello studio di una lingua straniera dell'inglese elementari ma non c'erano gli insegnanti ancora non c'era abbastanza insegnanti e quindi una delle insegnanti c'era già il modulo quindi tre insegnanti è dovuto farsi i corsi e poi sobbarcarsi l'onere di anche l'onore di insegnare una materia per la quale proprio zero che zero che avventure nel mondo detto vabbè dai camilla tanto serviva di occupare un po il tempo perché una bambina in un salone d'acconciatura ne vogliamo parlare povera me poveri clienti ecco perché non si può litigare buona ma era una bambina mia figlia ovviamente voleva la mamma e dava retta alla mamma secondo voi quindi c'erano le mie ragasse e le clienti insomma un po o signore insomma è stata un'avventura ma io volevo la mia bambina nel senso vicino alla mamma certo che mi sono organizzata per poterla avere anche con me perché se no chi la educa questi figlioli vi perdete il meglio ci perdiamo il meglio si perderanno il meglio e io non volevo perdermi il meglio cioè insegnare assistere ai suoi progressi e poi dare loro quello che è importante per noi no quindi rivedere tutti i nostri valori è una bella cosa avere da accudire dei figlioli perché poi non c'è l'accudimento c'è il nutrimento anche spirituale intellettuale tra la 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 e siccome così vabbè oggi c'è il sole va bene la camilla che zompettava di qua e di là mamma mia oh ma questi ragazzi sono troppo occupati eh sì ho capito però dipende da come li occupiamo ecco che persone le mettiamo vicino quindi andare dalla giovane era un po' come andare da una zia ecco parli di inglese giocando cantando impari qualcosa e non stai a romperti le scatole in salone che vuoi giocare vuoi dormire sui divanetti delle clienti dico ma te c'hai il retro e avevo organizzato tutto uno spazio quando ho progettato il mio salone perché me lo sono progettata io il primo ho visto il preventivo dico ma sto mica in centro a milano io 8.000 posti lavoro tutta una roba ma manco mi entrano in salone le donne di paese se vedono una roba del genere che sembra una stazione spaziale allora me lo sono progettata da sola ho pensato a quello che mi serviva io ho buttato giù cose abbiamo scelto i materiali ho pensato agli spazi e alle esigenze di mia figlia quindi avevo creato un retro carino con una parte una specie di finestra non finestra così il modo da dare a lei il posto dove giocare ma anche dove riposare ecco dove è bello vedere un bambino che dorme sul divano dove la gente ci mette il sedere no ecco e invece i bambini vogliono stare con la mamma andate via voglio andare a casa io sono stanca robe così oi mamma meno male che ecco meglio lavorare in un paese sotto certi punti di vista mi hanno voluto tanto bene ne hanno voluta lei e abbiamo pianto quando ci siamo salutate ci siamo abbracciate ho fatto una festicciola e è stato bello insomma salutare chi mi ha sostenuta per quasi un decennio perché sì sono stata grata a quelle persone e quindi la camilla andava a inglese dalla giovanna quando arrivava dalla scuola materna o dalla scuola materna all'ultimo anno perché il primo arrivava e dormiva subito e la portavo in braccio in autobus che dormiva e dormiva a casa e mi saltava la cena è stato un dramma perché lei era abituata a riposino di tre ore al pomeriggio e poi faceva la merenda e stava sveglia invece si distruggeva la scuola materna dove non riposavano loro e quindi mi arrivava che dormiva c'era verso di tenere la sveglia sono stati mesi il primo anno dove mi ha saltato un pasto e quindi ci stiamo messe d'accordo con le insegnanti che le facevano fare un'ulteriore merenda anzi la merenda non era veramente contemplata però me la nutrivono anche perché poi sono arrivati i mesi dove camilla ha smesso di mangiare quindi sì che sono arrivati i cavoli e anche le merende e va bene insomma cose che ognuno affronta insomma le proprie beghe i propri problemi esistenziali ah santo cielo quanto ho ringraziato io quelle maestre della scuola materna e anche delle elementari siamo state molto fortunate molto quando di ma ti sei pentita una verchina no io magari dove tornare io amo vivere in paese poi c'era veramente una sinergia mi hanno aiutato tantissimo abbiamo sostenuto la ragassa e sempre bellissima l'hanno nutrita anche intellettualmente camilla ha affrontato le sue cose disegnando e scrivendo quindi a quattro anni camilla già scriveva da sola si esprimeva raccontava storie che illustrava i suoi mini libretti qualcuno ce lo dovrei ancora avere i libretti bonsai e l'hanno sostenuta in questo suo progresso non so come dire senza renderla una bambina diversa non mi ho mai creduto nei geni ecco diciamo ho sempre dato più valore a non all'appiattimento non ho mai anzi c'è molti stimoli a casa le letture le cose le attività didattiche i giochi insieme a me alla tata però ecco diciamo mai tolta dal giusto contesto insomma quei bambini della sua età io contrario alle primine per carità è andata bene ecco ritengo di aver fatto la scelta migliore al suo tempo ma che primina sta con i suoi compagni se sa fa qualcos'altro se torna meglio farà meno fatica e va bene e poi il fatto di aver frequentato la prima insieme ai bambini di quinta pluriclassi c'erano pochi bambini e per loro è stato uno stimolo bravo le insegnanti brave 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 altro che e gli hanno fatto crescere proprio bene questi bambini ecco le nostre maestre di paese ah lorenzo ma che più fonesta mattina è così è il primo febbraio tutti a giocare con vai la cia ciao va fai vedere io passo no tu non fa io passo ma andate a ramengo voglio ridere ma io voglio oggi rido va bene oggi viene la mia amica allieva oggi preparo la anzi tra poco vado devo finire di sistemare in giro la torta di castagne quella senza zucchero se andate su instagram vedete cosa abbiamo pubblicato con la camilla che mi aiuta lei a pubblicare le cose devo andare a vedere devo andare a rispondere ma lo faccio più tardi quindi narrazioni trattino basso tessili oppure le pezze di menu e vedete cosa fa la camillina mia della mamma sua bella e insomma allora questa è la torta che ho bruciato la sera la devo grattare mannaggia a me e quello è il bouquet che mi aveva preparato la Giovanna le marghettine le pratoline stanno bene le violette no lei che non mi ricordo più come si chiama le foglie stanno bene il bocciolo chissà se si aprirà e cosa vi faccio vedere oggi va bene allora vedete quella gonnellina che ha il bicchiere ecco quelle li avevo fatte a bottega con alcune allieve di uncinetto avevamo creato dei punti luce allora in un bazar lì nel paese avevo trovato dei bicchierini bassi con la capacità diciamo di un tea light sul fondo poi erano alti 5 centimetri con il bordo che usciva fuori a campanella ma liscio quindi si allargava diciamo verso l'alto invece quello sale su a cilindro quasi è un po più conico ed erano colorati e quindi avevo comprato dei tea light profumati e colorati e avevo insegnato a creare queste corolle con delle fettucce di cotone che avevamo lì di dimensioni diverse e quindi facevamo dei mazzetti intorno alle dita più o meno della misura della circonferenza insomma di questi bicchierini e usavamo loro questi anelli di filato creati intorno alle dita lavoravamo intorno a quelli ecco perché viene così bombato e abbiamo fatto questi fiori perché è proprio una gonnellina smerlata e quel filato più sottile sempre una fettuccia ecco l'ultimo giro e che crea quel filino li avevamo fatti di vari colori ecco un esercizio divertente fatto ad uncinetto con quella tecnica lì poi avevo realizzato anche altre cose avevo dato l'idea per fare altre cose ecco abbiamo parlato di uncinetto siete contenti e due due bei filati una fettuccia più spesse di quelle erano di quelle che ci sono adesso due tipi di fettucce quindi abbiamo visto l'effetto che faceva lavorare su una base realizzata con un filato di un certo di una certa dimensione con uno più sottile a croce ed è stato interessante perché poi mi piace far ragionare le persone far toccare far ragionare far considerare ponderare tra la la sono contenta come mai secondo non lo so per me oggi è un giorno come la prima prima giorno di primavera perché non sei depresso no 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 perché voglio vedere anche chi è un bel modo per far selezione no tu vedi quello ma lo ritenevi intelligente sì però non sa ragionare non sa vedere non sa parlare non sa e poi le notizie dal dal canada e poi varie notizie dall'Europa e poi le notizie di casa nostra ma sono delle macchiette no sono delle macchie immense delle macchie sull'onore di tutti noi sono altro che macchiette sono delle pozze dei pozzi neri dei buchi neri buchi neri vedremo vedremo perché io ripenso no al peggio del peggio i banchi a rotelle cioè voi in casa che ne so uno della famiglia perde il lavoro sono figli richiesti che ne so l'apparecchio gli occhiali e poi no sai cosa facciamo adesso tutte queste difficoltà cambiamo l'arredo del bagno e ci mettiamo le rotelle perché così quando avrai un domani forse l'apparecchio ti diverterai andare dal water al lavello per lavare l'apparecchio e ne so vabbè così no ma ve la ricordate la pippo dei banchi a rotelle sembrava l'unico ma sti banchi a rotelle poi pensare dei figlioli che giustamente cercano di essere presenti in quello che accade che vogliono usare insomma vogliono capire vogliono dirlo che vogliono capire pestati a sangue no dei ragazzi minorenni anche pestati comunque hanno provo caso stati catti hanno non avevano fatto niente ci sono non avete stimato eppure ma non so figlioli vostri ma sono tutti figli nostri è il futuro salvate prima le mamme e i bambini le donne e i bambini perché sono il futuro e le donne perché non perché soffragimi perché servono le mamme per tirare sui figlioli e ma i papà le riconoscevano delle mamme e la mangiare qualcuno provvederà però salvate i bambini le donne e i bambini un incendio un disastro che ne so una nave che affonda salvate le donne e i bambini prima sulle saluppe per prima ovviamente chi è in grado di remare o di portare un moto e le donne e i bambini avete capito e come cambiano le cose a lorenza ti prego bacino a tutti allora cosa vi faccio vedere vi faccio vedere quel giornale ho comprato due giorni ho comprato ho giocato due numeri all'otto no non gioco all'otto e così sono ho già vinto allora ho comprato due riviste no e quindi cioè abbiamo il mani di fata e abbiamo mi è sempre da dire vogue invece è il come se c'è ma venghi il burda maglia oggi cosa vi ho scelto allora ho deciso insomma quel golf alla camilla lo farò solo che voglio fare voglio finire il golf della federica e poi fare al volo un golfino a una bimbina avrò una bimbina da me questo fine settimana molto probabilmente non mi è stato ancora straconfermato avrò la benni avrò quattro ragazze e quindi ne voglio far felice almeno due ecco con delle cose mie e quindi voglio voglio fare un golfino alla benni poi voglio fare quel golfino alla camilla con il momi poi avete visto sul burda maglia questo golfino caltaschino aspettate vediamo se riesco a farvelo vedere è questo qui viene lavorato con un kid silk quindi se lo avete il kid silk da lavorarsi con i ferri del 4 mi pare beh vediamo se trovo le spiegazioni prima che finisca il tempo col cellulare eccolo qua dove sei fatti vedere mostrati vediamo un po' kid silk consigliano almeno 5 pelote qua per le taglie più piccole fino a un 6 ferri 3 mezzo 4 e numero 6 con un ferro circolare del 6 cosa ci faranno col circolare chissà e ci sono dei golfini comunque per tutti per chi ama realizzare top down vabbè poi si può ragionare e è semplice vediamo un po' se viene c'è un diagramma c'è una mezza maglia inglese non so quale quale sia la mezza maglia inglese voglio poi andarla a vedere è fatto a teli mi sa di sì c'è uno schemino sì è fatto a teli però sì perché sono le spalle cucite mi sa va bene comunque mi piace questo collo così io amo il mohair ne abbiamo tanti però oltre al al soffio ad esempio sto pensando a quello che ho in casa io ho dei kid mohair ho dei kid silk ma non ne ho abbastanza per colore e non voglio fare una maglietta a pezzetti una manica in un modo perché no non sono una fan una fan del palio di siena scusate mi ho assistito ho visto vabbè mi sono trovata in mezzo alle alle come si sa ai cortei pre manifestazione però mi ha sempre messo l'ansia quella cosa lì come i torieri e quindi che cosa ho in abbondanza a casa ho del soffio ho del soft color ma lo voglio tinta unita ho del kid silk ma ce l'ho di vari colori tipo una ciambella di un colore una ciambella di un altro poi ho del kid silk molto peloso molto ricco ma mi ci ficco sì ma non è abbastanza per fare una maglia dovrei abbinarlo ad altro che ce l'ho eh ho la merino silk che è perfetto è il stesso colore tintura ah l'altro giorno poi ma che ridere mi sono persa nella lettura dell'etichetta che altro non era eh 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 che sì mi sa che era il legno del Brasile poi quello là ah ah mi sa sì ecco non vedi quando non connettete vabbè comunque eh e quindi sì mi vedrete utilizzare i modelli sulle riviste perché perché è giusto vedo le ho comprate mi sono piaciute le faccio non ho voglia di pensare di progettare sì lo dico poi tanto la mia testa va pensa a pensa cose progetto devo fare delle caussette ne ho trovate di carine sapete che le mie prime calze le ho fatte a ferri dritti senza cuciture eh eh sì eh carine sì e quelle che ho trovato non le ho mai fatte fatte così quindi le farò poi ve le farò vedere non credo di riuscire a farcela prima del fine settimana oggi poi da dedicare tempo alla mia amica eh domani ci sono cose da fare ci sono documenti da portare in caserma ci sono devo andare a fare degli accertamenti devo vedere come si va ah però è una cosa interessante perché c'è un codice 003 mi pare dove si si ha diritto a uno screening gratuito eh tutta una serie di esami per accertare che non ci siano coche poi dicono ah ce l'avevi ce l'ha tu ce l'ha tua non ci sono andata a parlare col mio medico perché corcavolo ovvero e corcavolo e cavoletti di bruxelles broccolo siciliano broccolo romanisco eh cavol fiore bianco rosse verde anche no posso dire la mia eh chi siete state felici intanto chi vi ha detto niente ecco io lo dico no non ci penso proprio ecco e quindi intanto vediamo di ottenere di fare questo screening perché informata e informati tutti di quello che c'è di quello che non c'è di quello che non voglio che arrivi eh beh io sto facendo di tutto per mantenermi sano appeso pochissimo sul sistema nazionale perché perché cerco di non ammalarmi eh cerco di tenere a bada le cose e di mantenermi salute ci sono medici che ci riescono ah mio mozzi che svolta che svolta quindi sì sono su di morale e quindi eh e poi dondolindo mi consola e ce l'ho anche io momenti di sconforto ma che credete e poi penso vado me la sono stampata ce l'ho ce l'ho stampata grande me la voglio portare appresso ce l'ho ancora in mezzo a tutte le fotocopie ma tanto vado mi connetto e a volte a volte me l'ascolto ma preferisco